Ciao e bentornati nel canale. Oggi parleremo di un argomento molto attuale. Come sappiamo bene infatti, quest'anno il mondo sta vivendo livelli di inflazione che non si vedevano da parecchi anni e ne risente soprattutto la popolazione. Oggi vediamo quali sono gli strumenti a disposizione della Banca Centrale Europea per fronteggiarla e cerchiamo di capire perché la BCE non sta facendo niente a riguardo. Ma prima, se sei nuovo qui, io sono Viola e ogni sabato pubblico un nuovo video su temi di economia e finanza. Sabato prossimo partirà anche in una nuova playlist dedicata alla storia del pensiero economico, un piccolo esperimento di storytelling versione economia e finanza. Se l'idea ti piace iscriviti al canale e ora torniamo all'argomento di oggi. L'inflazione è quel fenomeno per cui i nostri soldi perdono valore mentre tutto diventa più caro, case, macchine, elettricità, cibo e così via. In un video precedente abbiamo parlato dei motivi per cui l'inflazione si verifica e ti lascio qui il link se non l'hai già visto. Abbiamo visto che un'inflazione contenuta è un prodotto collaterale di un'economia in crescita. Ma ci siamo resi conto personalmente negli ultimi mesi che quando sfugge di mano può causare grandi disagi. La Banca Centrale Europea lo sa bene e infatti ha il mandato di mantenere l'inflazione intorno al 2% anno. Questo è l'unico vero mandato della BCE perché gli europei, e specialmente i tedeschi, hanno ancora bene impresso nella memoria il ricordo dell'iperinflazione che si verificò al tempo della Repubblica di Weimar e non hanno alcuna intenzione di passarci di nuovo. Quindi è la BCE che si deve preoccupare di tenere a bada l'inflazione e per farlo ha a disposizione una serie di strumenti che utilizza per modificare la quantità di moneta in circolazione e quindi l'inflazione. L'insieme di decisioni e operazioni messe in atto dalla BCE con i suoi strumenti si chiama politica monetaria e ora vediamo cosa può fare la politica monetaria per rispondere all'inflazione. Gli strumenti più importanti a disposizione della BCE sono i tassi di interesse. La Banca Centrale infatti decide questi tassi di riferimento, che vengono chiamati anche tassi di policy e che applica alle transazioni con le banche europee. Modificando questi tassi, la BCE ha il potere di influenzare delle importanti variabili macroeconomiche, che sono strumentali al raggiungimento del suo obiettivo finale, cioè la stabilità dei prezzi. Il tipico intervento della Banca Centrale quando deve contenere l'aumento dei prezzi è sempre stato quello di alzare i tassi di riferimento. Aumentare i tassi di interesse equivale a rendere più costoso il denaro, scoraggiando di conseguenza le imprese e gli individui dal farsi prestare i soldi, e quindi diminuendo gli investimenti delle aziende e l'acquisto di beni che vengono tipicamente finanziati, come gli immobili. Tutto questo ha l'obiettivo di tenere a freno il livello generale della domanda di beni e servizi, per fare in modo che l'offerta possa, tra virgolette, recuperare e tornare in equilibrio. Infatti, come sappiamo, un livello eccessivo della domanda produce un aumento dei prezzi. Riportando la domanda ad un livello tale che l'offerta riesce a soddisfarla, si riportano i prezzi alla stabilità. Questo tipo di manovra si chiama politica monetaria restrittiva, dato che punta ad abbassare la quantità di moneta in circolazione. Manovre di questo tipo vengono eseguite quando l'inflazione è troppo alta per via di un'economia surriscaldata che sta crescendo troppo in fretta, e hanno quindi anche l'effetto di rallentare la crescita. Al contrario, la politica monetaria detta espansiva consiste nel diminuire i tassi di interesse per far fronte a una crisi economica come quella iniziata nel 2008. Abbassando i tassi di riferimento, infatti, si rende il denaro meno caro, si invogliano le banche a finanziare le imprese e gli individui, si favoriscono gli investimenti e i consumi, e in questo modo si stimola la ripresa economica. In questo senso, la politica monetaria serve per smussare i cicli economici, perché rende le fasi di crescita meno esplosive per tutelare tutti dall'inflazione, e rende le fasi di recessione meno violente per tutelare tutti da cose brutte come la perdita del lavoro e così via. In tutto questo avrei notato che le singole banche europee hanno un ruolo molto importante. Infatti, come avevo accennato nel video che gli ho dedicato, le banche compongono il meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Le decisioni prese dalla BCE, infatti, si ripercuotono prima sulle banche che sono dirette controparti della BCE, poi a cascata su tutte le altre banche e intermediari, fino ad arrivare a influenzare le famiglie e le imprese. Tutto questo naturalmente richiede dei tempi tecnici che possono essere abbastanza lunghi. Gli stimoli impressi all'economia dalle scelte di politica monetaria possono impiegare anche qualche anno per produrre degli effetti che siano misurabili. Adesso però parliamo di quello che sta, o meglio non sta, facendo la BCE in questi mesi. L'inflazione che si è registrato ultimamente in Europa e altrove è stata improvvisa e molto violenta. Eppure finora la BCE non sembra essersi mossa in risposta a questa situazione, nel senso che non ha ancora alzato i tassi. Il motivo si legge nel comunicato stampa della BCE pubblicato lo scorso 10 marzo. La BCE ritiene che questa fiammata di inflazione sia temporanea e che si potrebbe riassorbire entro l'inizio del prossimo anno, così presto che qualsiasi impulso monetario arriverebbe a destinazione con l'inflazione ormai sparita da un pezzo e a quel punto farebbe più danni che altro. Il mandato della BCE, infatti, riguarda la stabilità dei prezzi nel medio termine, cioè almeno due anni. Quindi un problema diventa tale agli occhi della BCE solo quando minaccia di esistere per un tempo sufficientemente lungo da giustificare un'azione correttiva. Però c'è da dire che, nonostante tutto questo che abbiamo appena detto, i mercati finanziari si aspettano che prima o poi la BCE interverrà sui tassi. D'altronde la Federal Reserve lo ha già fatto alzandoli. Questa aspettativa ha un effetto sul prezzo delle azioni. Infatti questo prezzo dipende dalle informazioni disponibili nel mercato, comprese le aspettative. Quindi se i mercati si aspettano che i tassi di interesse aumentino, questo si riflette nell'abbassamento del prezzo delle azioni. Infatti, generalmente, quando i tassi di interesse si alzano, questo comporta un crollo dei mercati azionari, per una serie di motivi che vedremo in altri video. Tutto questo per dire che, per chi come noi si interessa di finanza, le decisioni di policy delle banche centrali sono molto importanti, visto che possono in un certo senso dettare il buono e il cattivo tempo nei mercati finanziari. È un aspetto molto importante per chi investe, e ne parleremo sicuramente in altri video. Un altro aspetto molto interessante è il rapporto tra inflazione e occupazione, temi sociali su cui i governi e le attualità si arrovellano parecchio. Se questi argomenti ti interessano e vorresti trovarli nei prossimi video, fammelo sapere nei commenti. Intanto, se il video di oggi ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al canale. Noi, come ogni settimana, ci vediamo sabato prossimo, con il primo video di una nuova playlist dedicata alla storia del pensiero economico. A presto!